Vito, politico, Romano, perché lei sbuffa? Ma perché noi sono anni che chiediamo queste cose, adesso ci stiamo avvicinando alle elezioni, adesso sono tutti fenomeni. Sono anni che noi chiediamo che ci sia un rapporto tra la religione musulmana e lo Stato italiano, così come c'è tra la Chiesa e lo Stato. Sono anni che noi chiediamo un registro degli imam, sono anni, e lo vediamo nelle proposte di legge che ha fatto la Lega in questi anni, sono anni che chiediamo che venga recitato il Corano e si faccia proselitismo in italiano, sono anni che noi chiediamo queste cose, sono anni che non è stato fatto niente. Ma in Lombardia mi si è riemposto alla costruzione della moschea, scusami, è dovuto ricorrere il Consiglio di Stato per dire c'è libertà di costruzione. In Lombardia ci opponiamo, come in tutto il resto d'Italia, ci opponiamo alla costruzione delle moschee per questo motivo, perché la prima cosa deve essere un rapporto serio tra la religione musulmana e lo Stato italiano. Stato italiano. Stato italiano.